Avete mai sentito parlare di paralisi del sonno? Ecco, con questa cosa ci convivo da due anni ed è una cosa che odio, odio e che non sopporto. Ogni volta che succede vi giuro sono terrorizzato. La paralisi del sonno praticamente è un disturbo del sonno a tutti gli effetti dove praticamente il soggetto qui presente, chi ne soffre o a chi capita, praticamente non riesce più a svegliarsi, per fare sempre breve. A me capita spessissimo a due anni a questa parte, soprattutto nei miei pisolini pomeridiani, li chiamo pisolini tra virgolette perché si protraggono per tantissimo tempo, come per esempio oggi pomeriggio mi è successo, che dalle 16 alle 18 praticamente ho dormito due ore senza riuscirmi a svegliare. Stavo sognando, ad un certo punto sono diventato consciente del fatto che stessi sognando e provavo a tutti i costi a svegliarmi, ma non ci riuscivo. Ho una sensazione orribile perché quando diventi conscio, almeno nel mio caso, che stai sognando, riesci comunque a percepire quello che succede nella realtà. Quindi magari sentivo il mio telefono squillare, sentivo vibrare, sentivo la tv accesa, ma ero intrappolato all'interno di questo sogno senza riuscirmi a svegliare. In qualche modo prima o poi succede che ti svegli, perché ti svegli, però rimani praticamente paralizzato a letto. Stessa cosa che mi è successo per la desima volta oggi. Sono andato praticamente in questa posizione, bloccato sul divano, praticamente, non lo so, per cinque minuti, totalmente col mio corpo immobilizzato, che non riuscivo a muovere, ma con la mente e gli occhi lucidi e l'attacchicardia a mille. E questa è la mia esperienza in merito. Ho preferito raccontarla a voi, perché, sincero, non ho minimamente il coraggio di andarla a cercare su Google, perché già so dove si va a parare, quindi preferisco parlare con voi. Se avete esperienze simili o qualcosa da raccontarmi in merito, scrivete.